Il suo obiettivo era stuprare 500 donne, e ci è quasi riuscito. Il nome di questo criminale è Jojo Bara. È stato scoperto per la morte di Lucy Blackman e Carita Ridgway. Le aveva drogate e poi stuprate. Lucy l'ha fatta a pezzi e nascosta, ma l'intera vita di questo criminale è venuta fortunatamente alla luce, anche se troppo tardi. Era un eccellente uomo d'affari, oramai caduto in rovina, ma aveva delle idee contorte perverse. Non sappiamo il perché abbia avuto voglia di uccidere, ma sappiamo soltanto che...